15esimo round, ci troviamo in oriente a Singapore nel circuito cittadino denominato Marina Bay. Questa pista è spettacolare, attraversa i posti più suggestivi della città e si corre in notturna. Qui bisogna sapersi destreggiare tra velocità e tecnica. I piloti di F1 dicono che grazie alla forte umidità dell'aria guidare qui è due volte più faticoso di Monte Carlo. Bene, andiamo a vedere il giro di Bulldozer IT su Scuderia Mercedes. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.